Al via questa mattina gli esami di maturità. Le 8.30 commissari d'esame hanno aperto le buste per dettare le tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione in merito alla verifica di italiano, storia ed analisi del testo. Niente Fukushima e neppure l'Unità d'Italia. I circa 500.000 candidati che si sono cimentati oggi con lo scritto di italiano si sono visti proporre per l'analisi del testo la poesia Lucca di Giuseppe Ungaretti contenuta nella raccolta e vita di un uomo. Nel tema storico si chiedeva ai ragazzi di soffermarsi sugli avvenimenti degli anni 70 a partire dalla lunga citazione del secolo breve. La traccia di attualità ha preso spunto dalla previsione dell'artista americano Andy Wardle che nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per 15 minuti per chiedere ai candidati di soffermarsi sul concetto di fama proposto oggi dall'industria televisiva e del social network. Amore, odio e passione al centro del saggio breve. La traccia dell'ambito socio-economico riguardava il rapporto fra scienze ed alimentazione, mentre per l'ambito storico-politico affrontati i concetti di destra e sinistra, i giovani e la militanza politica, riflessioni sul senso di appartenenza alle correnti politiche e sull'impegno in prima persona. Il tema in ambito tecnico-scientifico è dedicato infine alla figura del fisico italiano Enrico Fermi. Ho scelto la tipologia B, la traccia che permetteva di fare articolo di giornale o saggio breve, amore, odio e passione. E niente, era una delle tracce comunque più belle, anche se erano tutte molto belle. C'era l'anasi testuale di Ungaretti, che però era un po' più difficile. Poi c'era la fama anche di Andy Warrell, era molto bella, però ho preferito l'articolo di giornale perché è un ambito in cui sono un po' più brava. Ho scelto il tema sull'alimentazione, siamo ciò che mangiamo, di un saggio breve appunto sul tema dell'alimentazione. È stata facile? Non è stata difficile, era un tema su cui mi sentivo ferrato, abbastanza sicuro e ho deciso di trattarlo. Tu cosa hai scelto? Io ho la tipologia D, quello sulla fama e Fivera al giorno d'oggi e con i paragoni con la fama dell'antichità, diciamo. Ansia e preoccupazione? Sinceramente no, mi è piaciuta come traccia, quindi penso anche di essere andato abbastanza bene perché erano argomenti abbastanza moderni, diciamo. Tu cosa hai scelto? Tipologia D, sempre la fama, il raggiungimento della fama. Vi aspettavate tracce del genere? No, sinceramente no. Cosa vi eravate preparati? Si parlava del tema dell'unità d'Italia, Fukushima? Sì, solo che circa l'unità d'Italia comunque era troppo scontato, un argomento troppo semplice, quindi sinceramente pensavo non sarebbe uscito. Poi magari anche il tema sulla caduta delle torri gemelle in occasione dei dieci anni, però sulle tracce di attualità non ne avevo la più pallida idea. Domani gli studenti verranno di nuovo convocati per svolgere la prova di settore. Lunedì prossimo, 27 giugno, si svolgerà invece il testo ed ultimo scritto, il cosiddetto quizzone, predisposto da ogni singola commissione sulle materie del quinto anno. Nei primi giorni di luglio, subito dopo la pubblicazione dell'esito degli iscritti, inizieranno le verifiche orali. Grazie! Grazie!